Questa mattina in Val Sugana vi mostriamo le impressionanti immagini riprese da un automobilista intorno alle 7.45 allo svincolo di barco di Levico quando una BMW si è scontrata con un camion. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, rimasto a terra per circa un'ora per stare feriti dalle lamiere, sono state necessarie le pinze idrauliche dei vigili del fuoco volontari di Levico che hanno anche scattato alcune delle immagini che vedrete. Intervenuti anche i vigili di Caldonazzo e Trento e i garbinieri di Borgo. Proprio il conducente dell'auto, un ventenne di origine moldava residente ai Mer, ha riportato le ferite più gravi ed è ricoverato in rianimazione al Santa Chiara di Trento, fratture per un diciottenne di Mezzano. A distanza di 20 minuti poi un altro incidente, questa volta sulla provinciale, dove una moto si è scontrata con un'auto. I conducenti dei due mezzi non sarebbero gravi.